Amici di Bike Show, siamo al 61esimo Gran Premio di Brissago. Il ciclismo femminile oggi incomincia la sua stagione. Le protagoniste, le grandi campionesse del ciclismo mondiale qui si sfidano sulle prime salite. Oggi andiamo a vedere le interviste del nostro inviato Mauro Scovenna. Che credo essere comunque dei paraggi. Buongiorno alle trete della Pigla, intanto ha firmato anche la Flex Point. Buongiorno, dunque a Veronica Andrea, sotto Svezia. Allora, un saluto a Giada, agli amici di Bike Show. Salve a tutti. Allora, oggi? Eh, oggi è la prima corsa e vedremo di fare un ottimo risultato con la nuova squadra, dove mi trovo quest'anno, Salitalia Ghezzi. Eh, oggi, dai, tanto vento, sento tanto vento, però, dai, spero di fare qualcosa di buono. La gara, il percorso non si dice proprio alle mie caratteristiche, però spero di aiutare la squadra e fare comunque bene, dai. Siamo qui con Brunello Fanini. Allora, oggi che gara si presenta? Oggi come prima gara tutti vogliono vincere, quindi sarà una gara molto combattuta, una gara impegnativa, però non più di tanto. Però facendola a tutto rapporto diventerà sicuramente dura. Come stai? Io sto bene, la gara non è dura, vedremo di far bene. Volevo dire che prima corsa sarà come corsa molto impegnativa e così posso vedere anche in che condizioni sono messa di tutta preparazione invernale che ho fatto questo inverno. E speriamo che andrà tutta bene. Allora, Felice, con questo bel vento, oggi che gara si presenta? Ma, sì, c'è un po' di vento, comunque non verrà mai di lato perché si sale nella valle, poi si ridiscende, si gira poi su un circuito con due o tre salitelle, quindi o sarà in faccia o sarà da dietro il vento. Comunque la corsa si deciderà negli ultimi 20-25 chilometri. Ma, dico che oggi parto per partecipare, per vedere come sto, perché quest'anno la preparazione non è andata nei migliori di modi, però dai, mi trovo bene in questa squadra e spero che sia una bella stagione. Oggi? Guardiamo, dopo diciamo, no, non diciamo nulla. Alcuni ci dicono che sei già in forma. Chi è il dito? Eh, è bugiarde, no? No, no, guardiamo, abbiamo Noemi che è molto forte, speriamo. E oggi portiamo in giro la bicicletta. No, è debuta stagionale, faccio con calma. Chi va piano va lontano, io vado piano. Allora, cosa ci dici? Per gli amici di Bike Show, come ti senti? Ma, oggi bene, c'è molto vento, però per fortuna non piove, c'è il sole, speriamo di fare una buona gara. Siamo qui con il signor Mario Venervino, organizzatore della Coppa del Mondo. Oggi che gara si presenta qua? Ma, oggi è una delle prime gare nella nostra zona, ci sono qua delle belle squadre, belle campionesse, fa un po' freddino con quest'aria che c'è, c'è vento, ma penso che vedremo su questo traguardo ancora una volta una bella vincitrice. Quando a primavera per le strade passa il giro gridano tutti al corridore Dai, 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 dai Ma se una maschietta in bicicletta passerà vedrai che ognuno la verrà La testa girerà e allegro canterà Ma dove vai, bellezza e bicicletta Così di fretta pedalando con ardor Le gambe snelle, dormite belle Vanno già messo la passione dentro al cuore Ma dove vai, con i capelli al vento Col cuor contento e col sorriso incantatore Ed ecco il nostro amico Davide impegnato nelle foto Ciao Davide Se incontriamo una salita io ti sospingerò E stringendoti alla vita da molti parlerò Ma dove vai, bellezza e bicicletta Non aver fretta resta un poco sul mio cuore Lascia la bici, dammi i tuoi baci È tanto bello far l'amore Where do you go, pretty girl With your lovely bicycle Around, around, around the world, around the world I go Se incontriamo una salita io ti sospingerò E stringendoti alla vita da molti parlerò Ma dove vai, bellezza e bicicletta Non aver fretta resta un poco sul mio cuore Lascia la bici, dammi i tuoi baci Amici di Bike Show non sono le palme delle Maldive Non sono le palme delle Canarie Ma siamo a Brissago in Svizzera Siamo in prima fila Meglio di così è Mauro, cominciamo? Si sta da Dio, guarda Cioè se questo sole qua Spettacolare Un po' questo venticello che ci dà fastidio Però siamo qua seduti, belli tranquilli Siamo in attesa delle protagoniste Siamo in attesa delle protagoniste